Noi? Roberto Burioni. Buonasera professor Burioni, buonasera. Eccolo qua, grazie professore. Ben ritrovato. Allora, lei ha sentito immagino che ha detto il professor Locatelli questa sera, ha sentito anche il governatore Zaia, almeno lei stasera, per favore. No, parliamo, diciamo, senza citazioni. No, 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 per carità. Non mettere in imbarazzo. Anzi. Va bene. Allora, dunque, diciamo che il dato mi pare confermato. Dopo mesi di crescita, dopo due mesi di crescita costante, sembra che la curva stia calando. Giusto? Si va. Diciamo che è una cosa che noi giustamente ci attendiamo. Noi eravamo nei guai a marzo, abbiamo fatto due mesi di lockdown rigorosissimo, i casi si sono quasi azzerati. Poi siamo stati meno attenti, i casi sono di nuovo cresciuti. Ora siamo di nuovo in una tendenza positiva, però bisogna mantenerla. Se rompiamo le righe e cominciamo a comportarci in modo tale da trasmettere il virus, è certo che il virus continuerà a trasmettersi. Ma quanto è probabile o inevitabile una terza ondata a gennaio? Ma, secondo me... Dipende dai comportamenti, diciamo così, o, scusi la domanda banale, o questo virus è un fenomeno carsico per cui ogni tanto compare, scompare, ricompare? Noi è difficile fare previsioni, come diceva Rockefeller, soprattutto sul futuro, ecco, per fare una citazione. Però ancora di persone suscettibili ce ne sono tantissime. Per cui, se noi non ci comportiamo bene, il virus ricomincia a diffondersi. Sarebbe un peccato perché sembra che siamo veramente alle porte di grandi novità che potrebbero drammaticamente cambiare la situazione in meglio. In meglio questa volta, cioè lei sta dicendo, mentre con la prima ondata non avevamo possibilità di prevedere quando e se un vaccino sarebbe arrivato, adesso parliamo di più vaccini e... Io sono sincero, nella prima ondata non avrei mai pensato che potessimo avere un vaccino così efficace e così presto. Se questo vaccino sarà approvato, come si pensa, il 10 dicembre, nella riunione finale dell'FDA, avremmo fatto... L'FDA è l'organizzazione che autorizza tutti i farmaci. Noi avremmo compiuto veramente un'impresa incredibile, come aver fatto il Ponte sullo Stretto in tre settimane. Cioè è una conquista scientifica di proporzioni veramente inimmaginabili. Era totalmente inimmaginabile e, a mio parere, questo nel futuro avrà una ricaduta molto positiva per tante altre malattie, sia infettive, sia anche per esempio per i tumori. Io sono convinto che passata questa tragedia, come accade anche per le guerre, le guerre portano tanto dolore e tanta morte, però ha qualche avanzamento tecnologico e questa guerra lascerà qualche avanzamento tecnologico molto importante. Senta, tiene banco, poi ne parleremo, anzi ce ne parlerai diffusamente, del dibattito, tiene banco il dibattito sulla sicurezza dei vaccini. Anche lei ci conferma che i vaccini sono sicuri una volta superata la cosiddetta terza fase? Allora, un vaccino del quale non sono disponibili dati di sicurezza non viene approvato. Quindi noi abbiamo delle agenzie indipendenti che hanno un'ottima reputazione, si chiamano FDA negli Stati Uniti e EMA in Europa. Queste organizzazioni sono molto severe in generale e se gli si può rimproverare, nella mia esperienza, è la troppa severità. Quindi dire io non mi farò il vaccino se non ci sono dati sulla sicurezza è un po' come dire io non guiderei un'auto senza freni. L'auto senza freni non la vendono perché non la immatricolano, non è possibile. Quindi nel momento in cui il vaccino sarà approvato, noi dovremo avere fiducia in queste istituzioni perché la meritano e perché tutti i farmaci che assumiamo sono stati approvati da queste organizzazioni e quindi noi dovremo fare il nostro dovere vaccinati. Con molta semplicità, una volta vaccinati non si può trasmettere il virus? No, non lo sappiamo questo. In generale i vaccini che funzionano non consentono la trasmissione del virus o quando la consentono la riducono molto. Però questo lo vedremo quando avremo vaccinato le persone con il tempo. In generale però i vaccini molto efficaci sono anche capaci di bloccare la trasmissione. Per cui io su questo, pur non potendo fare affermazioni perché non ho dati, se verranno confermate le percentuali di efficacia, io sono piuttosto ottimista. Sul dibattito di cui parlavamo prima, cioè riapertura delle scuole da domani per esempio nelle zone diventate arancioni, possibilità di spostamento tra regioni, vacanze sulla neve, qual è la sua opinione oggettiva? Io ho la sensazione che la discussione non sia più scientifica ma sia politica. È chiarissimo che in presenza di misure che limitano il contatto tra le persone il virus si diffonde di meno, l'abbiamo visto già due volte. Per cui io spero comunque che al di là delle regole ci sia la responsabilità dei cittadini e l'efficienza delle istituzioni nel diagnosticare, tracciare e isolare i casi. Perché è solo questo. Ripeto, però questa volta stiamo vedendo vicino la luce del tunnel. Professore, dopo gli annunci di Pfizer e di Moderna, questa settimana è arrivata la notizia di un terzo vaccino che potrebbe essere disponibile, quello dell'Università di Oxford, che ha appunto annunciato il suo vaccino sperimentale, sviluppato con l'azienda farmaceutica AstraZeneca e sviluppato in collaborazione con l'IRBM di Pomezia. Noi, ha fatto rilevare un'efficacia del 70% circa, comunque è molto elevata. È molto elevata, certo. È elevata, anzi si è detto poi un'efficacia che varia fra il 62 e il 90%. Insomma, per avere qualche chiarimento, noi ci colleghiamo con Oxford, dove risalutiamo, l'avevamo conosciuto la scorsa primavera, il dottor Giacomo Gorini, che lavora appunto al vaccino a Oxford. È un'eccellenza italiana, suo alunno peraltro tanto tempo fa. Eccolo qua, buonasera dottor Gorini. Buonasera, è un piacere essere di nuovo con voi. Buonasera dottor Fazio, buonasera prof. Buonasera prof, per dire che era vero quello che ho detto. Allora, ci vuole chiarire intanto qual è la situazione del vaccino a cui state lavorando? Cosa significa efficacia fra il 62 e il 90%? Abbiamo letto perché sarebbe stata somministrata la seconda dose in una percentuale non corretta, che però paradossalmente avrebbe invece rafforzato la percentuale di efficacia del vaccino. Quindi da un errore è nato un dato invece interessante. Qual è la situazione del vostro vaccino? Certo, io ero coinvolto in una parte di laboratorio e questa è stata una settimana molto felice per noi, perché noi ci siamo l'ultima volta sentiti ad aprile, quando stavamo per iniziare il trial. Da allora ci sono stati gruppi di statistici ed esperti in materia che hanno monitorato l'andamento delle infezioni nelle persone che si sottoponevano al vaccino. Ecco, alcune di queste hanno ricevuto un certo regime vaccinale, altre ne hanno ricevute altre. Ecco, quando sono state somministrate due dosi piene... Regime vaccinale vuol dire che alcuni hanno avuto due dosi piene di un certo quantitativo. E altri invece? Sì, sì. Altri invece hanno ricevuto mezza dose e poi, a distanza di un mese come le altre, una dose intera. Ecco, come dicevo, io sono stato coinvolto in parti di laboratorio, quindi il motivo per cui questo regime è stato utilizzato non lo posso confermare. Però abbiamo visto che in effetti utilizzando prima mezza dose e poi una dose intera abbiamo ricevuto un'efficacia del 90%. Bene, quindi questo è un dato, professore, se fosse confermato è molto confortante. Anche il dato inferiore, quello del 62%, è superiore al limite che sia da posta, diciamo, l'Organizzazione Mondiale della Sanità e anche le FDA per autorizzare un vaccino. Quindi, sostanzialmente, a questo punto abbiamo tre vaccini che funzionano. Due che funzionano benissimo, uno che ancora dovrà fare un po' qualche altro sperimentazione. Ecco, ma cosa rimane ancora da capire, dottor Gorini? Beh, questo adesso lo deciderà appunto quell'organo competente di cui stava parlando il professor Burioni, l'EMA, a cui sottoporremo a brevi dati. E loro, che sono un organismo, diceva il professor Burioni, molto, molto serio, decideranno se questi sono abbastanza solidi per procedere appunto con l'approvazione. Posso chiedere? Questi sono... Prego, prego, scusi, mi interrotta, prego. Questi sono i risultati ad interim, abbiamo ricevuto questo segnale e ora saranno questi organi a dirci se il segnale è abbastanza potente da procedere con la vaccinazione del pubblico. Quali sono le caratteristiche di questo vaccino a cui lei ha lavorato e a cui sta lavorando? Tipo la facilità di conservazione, il costo anche, secondo lei, che potrebbe avere sul mercato? Sono delle caratteristiche che possono fare la differenza. Allora, prima di tutto vorrei ricordare che noi non distribuiremo questo vaccino per profitto. I nostri partner commerciali hanno consentito di distribuirlo su una base no profit, almeno finché l'Organizzazione Mondiale della Sanità manterrà uno stato di pandemia. Quindi questo abbassa notevolmente i costi e ora prevediamo intorno ai tre sterline per vaccinazione. Poi un altro enorme vantaggio è che questo vaccino può essere conservato a 4 gradi, vale a dire la temperatura che troviamo in frigo, fino a sei mesi di tempo. Questo ovviamente faciliterà la distribuzione in tanti paesi del mondo a cui si associa il bassissimo costo che può appunto permettere una vaccinazione molto estesa di paesi che magari sono in via di sviluppo. Posso chiedere quando, secondo lei, avremo notizie? Certo, ho capito, naturalmente dipende dal lema, ma secondo voi avete, secondo lei, ci sono previsioni? Io ho sentito prevedere che potremmo ottenere la delibera entro la fine dell'anno, ma ovviamente la prima cosa che a noi interessa, così come interessa gli organi competenti, quelli che decidono se il vaccino viene distribuito, è la salute delle persone che devono essere vaccinate. Quindi capisco lo stato di emergenza, ma questa approvazione sarà molto rigorosa e non può essere fatta con la fretta. Posso chiedere se avete già dati sull'efficacia, per esempio, sugli anziani o su alcune categorie di pazienti? Certo, allora questi dati racchiudono una popolazione mista. In particolare sugli anziani noi abbiamo visto delle risposte immunitarie molto potenti in una fase precedente, che sono sovrapponibili per intensità a quelle del pubblico anche più giovane, dei volontari anche più giovani. Dottore, so che a settembre hai incontrato con i suoi colleghi il premier britannico Johnson in visita da voi. Noi ormai siamo extracomunitari, quindi dobbiamo parlarci con una curiosità diversa. Ecco, cosa vi siete detti? Ci siamo scambiati due parole. Come ricordava era settembre e ancora eravamo prima di questa seconda ondata. Il premier Johnson si complimentò con me per il modo in cui l'Italia era riuscita a tenere sotto controllo la pandemia durante la prima ondata. C'è uno sorriso orgoglioso del suo professore Burioni per questo alunno che purtroppo lavora fuori. Dottor Gorini, sul dibattito natalizio, facciamo così, lei tornerà a casa a Rimini a Natale o no? Ora bisogna vedere come la situazione si evolverà, se possibile tornerò perché pur dovendo passare l'isolamento anche in Italia vorrei almeno avere il piacere di vedere i miei genitori dalla finestra. Allora glielo auguro a tutto cuore. Tra l'altro è stato uno studente, come ci aveva già detto l'altra volta, molto bravo. Le ha regalato anche una tazza? Sì, una tazza, il maestro migliore del mondo. Me l'ha spedita dagli Stati Uniti, ecco questa qua, che io uso per il caffè. Lei ha domande da fare al suo alunno? No, 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 soltanto congratulazione. Allora dottor Gorini, davvero facciamo tutti il tifo per lei, per noi. Grazie. Ci inorgoglisce ovviamente saperla lì e ci rassicura anche. Grazie dottore, buona serata. Un piacere, buona serata. Grazie dottor Gorini, grazie molte. Noi abbiamo una differenza fondamentale ora rispetto ai tristi giorni di aprile. Non sprechiamo. E infatti qui, questa sera dobbiamo proprio ascoltarla con interesse. Perché adesso sta partendo, già si sente serpeggiare questo dibattito sull'ah, io non mi vaccino. Insomma, come se fosse un gioco. Come dicevamo prima col professor Locatelli, insomma, non è una questione di libertà. Ma soprattutto, forse davvero non si può obbligare a fare una cosa di cui non si è persuasi, se possibile. Ma che cosa vuol dire non vaccinarsi o vaccinarsi? Che cosa vuol dire l'immunità di gregge? Questa sera ce lo spiegarei. E io quindi l'ascolto. Prego. In questi mesi abbiamo conosciuto bene i virus e abbiamo capito molto bene quello che possono fare. Un virus può contagiare una persona, che ne contagia un'altra, che ne contagia un'altra, un'altra ancora, fino a dare una gravissima epidemia. Però forse quello che non abbiamo visto è un punto debole dei virus. Se io prendo un gatto e lo lascio da solo qui fuori, il gatto troverà il cibo, troverà dell'acqua, troverà un riparo, troverà forse anche una gatta per riprodursi. Invece un virus no, da solo non vale niente. Un virus deve avere un ospite, altrimenti non è nulla. E quindi quando un paziente viene infettato, si ammala, diventa contagioso, emette il virus, A quel punto, se quel virus non incontra nessuno da infettare, e poi sparirà, rimarrà quando il paziente guarisce, non emette più il virus per qualche ora nell'ambiente, e poi basta, sparito. Possiamo immaginarlo, forse, come il fuoco che nasce in un albero colpito dal fulmine. Il fuoco arde, l'albero si brucia, ma alla fine, quando tutto quello che si poteva bruciare si è bruciato, ne rimane solo un mucchietto di cenere e il fuoco non c'è più. Diverso è se questo albero si incendia in una foresta, perché a quel punto le fiamme possono trasmettersi a un altro albero, e poi un altro ancora, e poi un altro ancora, e tutta la foresta può andare a fuoco. Ma noi come possiamo impedire che la foresta vada a fuoco? Con un intervento molto semplice. Tagliamo molte piante. A quel punto la foresta è fatta di piante molto più distanti l'una dall'altra, e se una viene colpita dal fulmine, ebbene, il fuoco non riesce a diffondersi, magari ne incendierà una, ma le altre sono lontane, e il fuoco non riesce più a diffondersi. Ecco, questo è quello che noi vogliamo ottenere nella nostra comunità, che il virus non riesca a diffondere. Nella foresta tagliamo le piante, ma nella comunità come facciamo? Lo facciamo col vaccino. Perché quando noi abbiamo vaccinato una persona con un vaccino efficace, quella persona diventa per il virus quello che è la pianta tagliata è per il fuoco. Niente. E allora, se in una comunità la grandissima parte delle persone viene vaccinata, che cosa accadrà se arriva un individuo contagioso? Beh, potrà infettare un'altra persona, forse anche un'altra ancora, ma il gran numero di persone immuni, non suscettibili all'infezione, farà sì che in quella comunità il virus non è in grado di circolare. Quando una comunità raggiunge questa condizione, raggiunge l'immunità di gregge. Immunità di gregge di una comunità significa che sono talmente tanti quelli immuni e talmente poco quelli suscettibili, che il virus non riesce a circolare. Ora voi capite qual è la differenza tra una popolazione dove il 30% degli individui è vaccinato e protetto e il 70% degli individui no. E in quel 70% il virus continua a girare rispetto a una comunità che invece si è tutta vaccinata e all'interno della quale il virus non circola più. Beh, vi faccio qualche esempio concreto. I vaccini non hanno mai un'efficacia del 100%. Questo contro il Covid sembra che ce l'abbia altissima del 90%. Eppure questo significherà che una persona su dieci che si vaccinerà non sarà comunque protetta. Se il virus continuerà a circolare, questa persona sfortunata che non ha ricevuto l'immunità dal vaccino, potrà infettarsi, potrà ammalarsi, potrà morire. Se invece il virus non circola, sarà anche lui al sicuro. E poi pensate, non potremo vaccinare tutti, perché alcune popolazioni potrebbero essere a rischio. Pensate alle donne che aspettano un bambino. Io non credo che nelle fasi iniziali somministreremo anche a loro il vaccino. Sono centinaia di migliaia di donne. Come le difendiamo? Saranno a rischio loro e a rischio i loro bambini se il virus continua a circolare. Se invece tutti ci vacciniamo, il virus non circolerà più e saranno protette anche loro e anche loro i bambini. Ma per capire meglio l'impatto dell'immunità di gregge, parliamo di un virus che conosciamo, il morbillo, e per il quale abbiamo un vaccino molto efficace già da anni. Sono molti i paesi che hanno raggiunto un'immunità di gregge e all'interno dei quali il virus non circola più. Uno di questi, per esempio, sono gli Stati Uniti, che nel 2000 hanno raggiunto l'immunità di gregge. Per esempio, quando nel 2011 c'è stato un caso di morbillo all'interno di un cinematografo, ci sono stati quattro contagi e poi si è fermato. Invece nel 2013, a causa delle mancate vaccinazioni, l'immunità di gregge è stata persa negli Stati Uniti. E quando nel 2014 un ragazzino di 11 anni è andato a Disneyland col morbillo, c'è stata un'epidemia di centinaia di casi e c'è scappato pure il morto, perché l'immunità di gregge non c'era più. E noi in Italia, in Italia, com'è la nostra situazione? Beh, la nostra situazione purtroppo non è tra le più favorevoli, perché nel 2016, quando ancora il vaccino contro il morbillo non era obbligatorio, ma solo fortemente consigliato, noi eravamo ben lontani dal 95% di copertura vaccinale che serve per l'immunità di gregge ed eravamo a livelli di paesi molto, molto più poveri del nostro. E come conseguenza, l'anno dopo, il 2017, c'è stata una terribile epidemia. Un'epidemia con più di 7.000 casi e con 8 morti, pensate. Ma per capire il significato vero dell'immunità di gregge, andiamo a vedere i dati di questa epidemia. Perché quello che è interessante notare, andando a vedere chi si è ammalato in quell'epidemia, è sorprendente vedere che l'incidenza maggiore c'è stata nei bambini che avevano meno di un anno. Questi bambini cos'erano? Figli di antivaccinisti? No, neanche per idea. Questi bambini non erano vaccinati perché il vaccino contro il morbillo si somministra ai 15 mesi. E quindi l'unico modo per proteggere i bambini fino ai 15 mesi è quello di non fare circolare il virus nel resto della popolazione. Se il virus circola, loro si infettano ed è quello che è accaduto. Bene, capite dunque che vaccinarsi non è un atto di protezione individuale, come mettersi il casco quando si va in moto, allacciarsi la cintura quando si guida un'auto. Vaccinarsi è un gesto di responsabilità civile che rende la nostra comunità più sicura e che difende i più deboli e i più sfortunati. Per cui chi pretende di non vaccinarsi facendo i comodi propri, in nome della libertà, è bene che si sappia che chiede la libertà di rendere la nostra comunità più vulnerabile. È bene sapere che chiede la libertà di fare del male ai più deboli e ai più sfortunati. Beh, questa non è la libertà. La libertà è un'altra cosa. Grazie, professor Burioni. Grazie mille. No, stia qui con me ancora un attimo, la ringrazio di cuore. Grazie.